e allora buongiorno ragazzi ricapitolando intanto prima di qualsiasi cosa vi vorrei di dire una cosa è una nota veramente importante tutto quello che noi andremo a fare miscelamenti chimici e e via dicendo sono dei miscelamenti da fare sempre ma sempre con precauzione perché il nitrato di potassio da solo può essere il nocchio come lo zolfo e anche il carbonio che il carbone quello della carbonella messi insieme questi qua hanno messi insieme quindi questa composizione chimiche che noi andremo poi a miscelare quindi a comporre che sarà la polvere nera quella sarà una vera una vera preoccupazione ma dovremmo vedere la nostra vera preoccupazione anche se la lameremo perché è la nostra procreazione ed è giusto che lameremo però dovremmo amarla molto ma molto con cura ora qui non so se avete seguito i miei post prima ok vari giorni fa ho fatto la miscela 75 per cento di nitrato di potassio 15 per cento di carbonio e 5 di zolfo che poi in rete ci siano percentuali di meno o di o più alti o altrimenti alcuni ci mettono il magnesio o magnesio o altrimenti gli mettono il polvere d'alluminio diciamo polvere d'alluminio e magnesio sono ancora molto più preoccupanti nel senso che loro il polvere d'alluminio non potete lavorare diciamo con comodità dovete sempre avere l'allerta alta sempre averne cura il cento per cento perché quel tipo di polvere quando andrete a fare quel tipo di polvere sarà oggetto a che basta la minima con il cucchiaio basta la minica che possiate pesarvene di aver preso questa scelta e di amare questo hobby quindi non so se sono riuscito a farvi capire qualcosa perché io lo sto facendo quindi non voglio indurre nella paura nessuno però sappiamo quello che stiamo facendo dobbiamo essere responsabili di quello che stiamo facendo e non dobbiamo farci del male perché questo è un qualcosa a fini di divertimento questo coso porta un divertimento una risata non deve portare altre cose va bene che siamo ora vi spiego io la cosa difficile per noi casalinghi farsi la polvere da spado in casa è veramente difficile perché va bene i miei ingredienti primari ok sono facilmente reperibili su amazon o vai e consorse agrari sono facilmente reperibili su quello sì perché sono delle materie che sono in natura quindi non non si trova difficoltà anzi con molta facilità li avrete la difficoltà è non tanto nella combinazione in percentuale se un grammo meno un grammo più ma nella lavorazione perché la lavorazione della polvere deve essere omogenea deve c'è la polvere deve proprio essere miscelata e miscelata e contro miscelata perché se in una parte della polvere c'è più percentuale di una e non dell'altra non accenderà continua o si spegnerà o cioè faranno delle varie ci saranno delle variazioni della polvere nera quindi per essere una polvere nera integra omogenea ci sono dei processi da fare metterle in un ho visto e rete che li mettono a impastare con delle palline perché così diventa sempre più omogenea diciamo che le ore 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 ci sono quindi alla fine io lo faccio a perdere di tempo non ho niente invece di fare modellismo mi metto qui e perde il mio tempo però credetemi che per fare un botto da 100 grammi ci vogliono minimo una settimana almeno per quello dei miei studi che io faccio perché la rigiro poi deve stare un giorno lì a rigirare cioè perché credetemi se la polvere da sparo non è omogenea vi si accenderà ma vi si accenderà lenta vi si accenderà poco non farà quel quel lampo mettiamolo così quel lampo che indica che la polvere funziona al cento per cento poi se volete fare un test per vedere se la vostra polvere che avete appena creato funziona a meno no fate una cosa prendete un minimo un petardo con accortezza lo aprite versate la polvere da sparo in un fazzoletto di carta lo mettete di la e lo testate accendete sempre con cura quella polvere da sparo all'aperto quindi un fazzoletto che non fa non farà il botto la polvere da sparo alla luce non dà il botto però fa una scenografia fa un bel lampo voi dovete vedere che tipo di lampo fa quella polvere che avete appena acceso che era del petardo e che tipo di lampo fa la vostra e se siete vicini e lontani lo dovete decidere voi in quel momento che lo farete e lì più o meno sapete in quale stato siete se siete vicini e lontano comunque per tutti noi che ci immettiamo in questo mondo specialmente queste stagioni invernali non è un'impresa facile per nulla la maggior parte di noi non ha neanche dispositivi di sicurezza quindi si proginte chimici diventiamo dei chimici così provetti però dobbiamo sempre aprire gli occhi su quello che stiamo facendo perché non avendo le dovute strumentazioni le dovute preparazioni non sappiamo neanche come risolvere un problema quando ne avremo uno sperando che non se ne che non ne abbiamo incontro uno adesso vi saluto spero che vi ho un pochettino mostrato come fare io adesso magari più tardi quella faccio vedere questa mattina sto facendo un ultima prova ho preso un monello l'ho aperto lo sto chiudendo gli metto un po di polvere poi gli metto una miccia e vedo se realmente la polvere che dopo tante ma tante ma tante lavorazioni riesco a farlo a fargli fare il botto perché il botto non è altro che la polvere all'interno crea una compressione crea questa compressione e lui spara perché la compressione come un palloncino alla fine il principio è sempre quello la pressione all'interno del gas prodotto dalla polvere da sparo fa esplodere tutto il contenitore che sia un magnum o un monello o qualsiasi contenitore spero di essere stato rapido inciso in dolore ed aver fatto capire che si è bello sparare fuochi molto divertente ma può essere anche molto molto pericoloso quindi occhio alle mani e ragioniamo sempre con la testa ok comunque vada buon fuoco d'artificio ciao 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 che il carbone quello della carbonella messi insieme questi qua hanno messi insieme quindi questa composizione chimiche che noi andremo poi a miscelare quindi a comporre che sarà la polvere nera quella sarà una vera una vera preoccupazione ma dovremmo vedere la nostra vera preoccupazione anche se la ameremo perché è la nostra procreazione ed è giusto che l'ameremo però dobbiamo amarla molto ma molto con cura ora qui con non so se avete seguito il mio post prima ok vari giorni fa ho fatto la miscela che si sa 75 per cento di nitrato di potassio 15 per cento di carbonio e 5 di zolfo che poi in rete ci siano percentuali di meno o di o più alti o altrimenti alcuni ci mettono il polvere d'alluminio diciamo polvere d'alluminio e magnesio sono ancora molto più preoccupanti nel senso che loro il polvere d'alluminio non potete lavorare diciamo con comodità dovete sempre avere l'allerta alta sempre averne cura il cento per cento perché quel tipo di polvere quando andrete a fare quel tipo di polvere sarà oggetto a che basta la minima con il cucchiaio basta la minica che possiate pesarvene di aver preso questa scelta e di amare questo hobby quindi non so se sono riuscito a farvi capire qualcosa perché io lo sto facendo quindi non voglio indurre nella paura nessuno però sappiamo quello che stiamo facendo dobbiamo essere responsabili di quello che stiamo facendo e non dobbiamo farci del male perché questo è un qualcosa a fini di divertimento questo coso porta un divertimento una risata non deve portare altre cose va bene che siamo ora vi spiego io la cosa difficile per noi casalinghi farsi la polvere da spado in casa è veramente difficile perché va bene i ingredienti primari ok sono facilmente reperibili su amazon o vai e consorse agrari sono facilmente reperibili su quello sì perché sono delle materie che sono in natura quindi non non si trova difficoltà anzi con molta facilità li avrete la difficoltà è non tanto nella combinazione in percentuale se un grammo in meno un grammo in più ma nella lavorazione perché la lavorazione della polvere deve essere omogenea deve c'è la polvere deve proprio essere miscelata e miscelate contro miscelata perché se in una parte della polvere c'è più percentuale di una e non dell'altra non accenderà continua o si spegnerà o c'è o faranno delle varie ci saranno delle variazioni della polvere nera quindi per essere una polvere nera integra omogenea ci sono dei processi da fare metterle in un ho visto in rete che li mettono a impastare con delle palline perché così diventa sempre più omogenea diciamo che le ore 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 ci sono quindi alla fine io lo faccio a perdere di tempo non ho niente invece di fare un modellismo mi metto qui e perde il mio tempo però credetemi che per fare un botto da 100 grammi ci vogliono minimo una settimana almeno per quello dei miei studi che io faccio perché la rigiro poi deve stare un giorno lì a rigirare c'è perché credetemi se la polvere da sparo non è omogenea vi si accenderà ma vi si accenderà lenta vi si accenderà poco non farà quel quel lampo mettiamolo così quel lampo che indica che la polvere funziona al 100 per cento voi se volete fare un test per vedere se la vostra polvere che avete appena creato funziona a meno no fate una cosa prendete un minimo un petardo con accortezza lo aprite versate la polvere da sparo in un fazzoletto di carta lo mettete di là e lo testate accendete sempre con cura quella polvere da sparo all'aperto quindi un fazzoletto che non fa non farà il botto la polvere da sparo alla luce non dà il botto però fa una scenografia fa un bel lampo voi dovete vedere che tipo di lampo fa quella polvere che avete appena acceso che era del petardo e che tipo di lampo fa la vostra se siete vicini e lontani lo dovete decidere voi in quel momento che lo farete e lì più o meno sapete in quale stato siete se siete vicini e lontano comunque per tutti noi che ci immettiamo in questo mondo specialmente queste stagioni invernali non è un'impresa facile per nulla la maggior parte di noi non ha neanche dispositivi di sicurezza quindi si proginte chimici diventiamo dei chimici così provetti però dobbiamo sempre aprire gli occhi su quello che stiamo facendo perché non avendo le dovute strumentazioni le dovute preparazioni non sappiamo neanche come risolvere un problema quando ne avremo uno sperando che non se ne che non ne avevamo incontro uno adesso vi saluto spero che vi ho un pochettino mostrato come fare io adesso magari più tardi ve la faccio vedere questa mattina sto facendo un'ultima prova ho preso un monello l'ho aperto lo sto chiudendo gli metto un po di polvere poi gli metto una miccia e vedo se è realmente la polvere che dopo tante ma tante ma tante lavorazioni riesco a farlo a fargli fare il botto perché il botto non è altro che la polvere all'interno crea una compressione crea questa compressione e lui spara perché la compressione come un palloncino alla fine il principio è sempre quello la pressione all'interno del gas prodotto dalla polvere da sparo fa esplodere tutto il contenitore che sia un magnum o un monello o qualsiasi contenitore spero di essere stato rapido inciso in dolore ed aver fatto capire che si è bello sparare i fuochi molto divertente ma può essere anche molto molto pericoloso quindi occhio alle mani e ragioniamo sempre con la testa ok comunque vada buon fuoco d'artificio ciao